Buongiorno a tutti, benvenuti alla seconda parte di questa nostra lezione, questa puntata del seminario Persona, sulla nozione di persona nel dibattito fenomenologico. Nella prima parte ci eravamo occupati di Max Scheller e di Edith Stein, in questa seconda parte vedremo come queste posizioni vengono ulteriormente riprese e rielaborate nella seconda metà del Novecento da Carol Wojtyla. Però prima vorrei occuparmi di un breve excursus sui problemi dell'approccio fenomenologico. Si tratta di un paio di problemi in cui questo approccio si imbatte sempre, ovvero tutti gli esponenti di questa scuola finiscono per imbattersi in questa domanda, in un paio di domande che sono assolutamente ineludibili e che in un certo senso riguardano la nozione di persona o forse la nozione di persona ci permette o permette di dare una risposta a queste domande. Nella seconda parte invece ci occuperemo della nozione di persona in rapporto all'antropologia in Carol Wojtyla. L'antropologia ci tengo non nel senso della scienza umana, ma nel senso cattolico, nel senso religioso del termine, per cui accanto a una teologia, accanto a un sapere su Dio, accanto a una cristologia, accanto a un'ecclesiologia, un sapere sulla Chiesa e sul ruolo della Chiesa, quello salvifico nella nostra realtà, esiste anche un'antropologia che è la proposta, fondamentalmente, che le Chiese fanno rispetto a cos'è l'essere umano, qual è il suo ruolo, qual è il suo posto nel cosmo, eccetera. Bene, quindi passiamo senz'altro a queste prime due domande che volevamo affrontare, la prima è sui problemi dell'approccio fenomenologico e ecco i problemi di cui vorremmo occuparci. Il primo è come riconosco che anche gli altri sono persone. Una volta che noi abbiamo fatto un'indagine sul legame essenziale che si dà tra la persona e il mondo, una volta che abbiamo detto che la persona è, in termini semiotici, questa specie di traduzione semiotica, di analisi semiotica che abbiamo fatto, è un attore individuale che incarna il soggetto qualificato di un programma di azione, una volta che l'abbiamo inquadrata in questo termine, in questo modo, ci si può chiedere come facciamo a riconoscere che anche gli altri sono delle persone. Vi sono tante soluzioni, tante risposte a questo problema e ciascuno in qualche modo ha così tirato in ballo alcuni fenomeni, per esempio Edmund Husserl ed Edith Stein, come abbiamo visto nella scorsa slide, hanno approfondito la nozione di empatia, mentre per esempio Max Scheller si era concentrato di più sulla nozione di simpatia, anche se alla fine, devo dire che finiscono per intendere due fenomeni non completamente sovrapponibili, però molto vicini, molto tangenti, e questa capacità in qualche modo di comprendere la sofferenza dell'altro, di soffrire per la sofferenza dell'altro, ma al contrario anche di comprendere il piacere dell'altro, di avere piacere per il piacere dell'altro, mi raccomando, ecco, con sfumature diverse, perché chiaramente la simpatia non implica il fatto di rivivere in qualche modo il dolore, c'è forse un tratto di presentificazione, che se fossi un fenomenologo, non direi che è assente, la volta scorsa abbiamo parlato della presentificazione. Dunque, però, ecco, Max Scheller ed Edith Stein si assomigliano anche per un'altra idea molto importante, l'individuazione e la soggettivazione avvengono a partire dal collettivo. Max Scheller dice, guardate che in particolare, ci stiamo forse ponendo il problema sbagliato, cioè prima noi diciamo che c'è l'individuo, che c'è la persona, e poi dopo ci chiediamo com'è che questa persona entra a far parte di un'entità collettiva più ampia, riconosce le altre persone, cioè probabilmente non è così che vanno le cose, probabilmente noi, da quando siamo bambini, in realtà la pensiamo proprio come gli altri, non abbiamo un pensiero autonomo, siamo simili agli altri e tutta la nostra vita è un percorso di individuazione, è qualcosa quindi che ci porta a diventare individui da una dimensione che è di carattere collettivo, ci porta a cercare il modo di distinguere dagli altri, di distinguirci dagli altri, ci porta anche a riflettere su cosa è nostro e cosa è altrui nel nostro modo di pensare, in quelle che sono le nostre posizioni sul mondo, le nostre posizioni, facciamo un esempio banale, le posizioni politiche, noi condividiamo alcune posizioni politiche, alcuni valori, non so, siamo di destra, siamo di sinistra, siamo liberali, siamo sovranisti, la parola che va di moda oggi, ma lo condividiamo con tante altre persone, quindi cosa c'è di nostro in questi pensieri che ci abitano? Ecco, Max Scheller dice, probabilmente noi partiamo, siamo sempre così immersi in una dimensione collettiva e pian piano affrontiamo un percorso che ci porta verso l'individuazione, noi diventiamo individui nell'adolescenza, fino poi all'età adulta, quindi in un certo senso la domanda è malposta, noi riconosciamo agli altri lo statuto di persone perché prima di tutto siamo entità, parte di un'entità collettiva e solo in un secondo momento, solo in un secondo luogo noi ci facciamo individui. Ecco, posso approfittare per dirvi che questa posizione è stata già affrontata nel seminario, in particolare quando ci siamo occupati di antropologia, in particolare quando si è visto che le posizioni di Marcel Mauss possono essere superate recuperando l'idea di transindividualità. Ecco, quindi Max Scheller in un certo senso è molto in anticipo perché fa proprio le posizioni di filosofi contemporanei come Simon Donne, quindi siamo sempre, l'individuazione avviene sempre a partire da una dimensione collettiva e in un certo senso Simon Donne aggiungerebbe che è un percorso che non si compie mai, quindi noi tendiamo a diventare individui senza divenirlo mai compiutamente, senza mai isolarci del tutto. Veniamo alla seconda domanda, che cosa fa sì che il mondo per me sia identico al mondo per gli altri, ecco, anche questa è una domanda tipica che tutti i fenomenologi prima o poi si pongono e vediamo subito un po' di risposte perché Husserl per esempio parte con una nozione di intersoggettività trascendentale, quindi trascendentale significa semplicemente che la condizione di possibilità del soggetto, del nostro essere soggetto, del nostro rapporto con il mondo e con gli altri è questa intersoggettività in qualche modo originaria, quindi anche questo è un modo in qualche modo di ribaltare il problema, non partiamo dal soggetto, tutta la ricerca di Husserl è stata questa, parto dal soggetto, cerco di capire come mai il mondo mi appare in maniera oggettiva e via discorrendo, però poi non riesco a rendere conto del mio legame con gli altri soggetti, ho costituito il mondo come una monade che appare come tale soltanto dal mio punto di vista di soggetto e poi mi sono in qualche modo costruito una prigione, sto dentro alla mia prigione, sono dentro alla mia monade e non riesco più a rendere conto delle altre monade, quindi devo cambiare radicalmente il mio punto di vista e postulare una intersoggettività come punto di partenza e condizione di possibilità del fatto che anche gli altri vedano in me un soggetto e che io posso vedere negli altri un soggetto e che quindi il mondo sia un mondo condiviso. Ma Max Scheller sulla scorta di Leibniz invece tenta un'altra soluzione simile, simile per certi versi, meno laica, perché ci dice che non è l'intersoggettività trascendentale a far sì che le varie monadi in qualche modo concordino sul mondo, ma occorre postulare una persona infinita e perfetta, il cui microcosmo interno è la garanzia di validità per il mondo individuale di tutte le altre persone. Quindi questa è un'idea di Dio. C'è Dio che è in qualche modo il grande orologiaio dell'universo, scusate se mi rifaccio a Leibniz, e fa sì che tutte le diverse monadi costituite dal soggetto e dal mondo con il quale si trovano in una relazione essenziale, tutte le varie monadi concordino come appunto un orologio. Ecco, Scheller sottolinea che questa idea di Dio è in realtà un postulato, quindi la filosofia la postula per risolvere il problema. non la dimostra, non la dimostra. Siccome abbiamo un problema e siccome altrimenti non riusciremmo a trovare la soluzione alla domanda, ripeto, cosa fa sì che il mondo per me sia identico al mondo per gli altri, allora il filosofo postula un Dio che fa tornare i conti. per cui se questo Dio sia reale o no, questo si può rispondere soltanto con la fede, perché vi è la rivelazione di un Dio in una persona concreta o di Dio in una persona concreta e allora lì avremmo le prove, ma non sono prove di carattere filosofico, se è Dio che ci dice no, sono qui, esisto, non è la filosofia che ci arriva, ma è una rivelazione e anche, tra l'altro, la fede in questa rivelazione. In realtà, dal mio punto di vista, la soluzione di Husserl e quella di Scheller erano molto in comune, ma appunto sembra che l'una sia la versione laica dell'altra. ecco, sto con una riflessione così, in libertà. Bene, abbiamo visto quindi questi due problemi e ora siamo in grado di affrontare il problema della persona e del suo legame con l'antropologia in Carol Wojtyla. Carol Wojtyla, che tutti noi conosciamo, è nato nel 1920, è morto nel 2005, ha avuto una vita lunghissima che lo ha portato a essere testimone della Seconda Guerra Mondiale, quindi dell'invasione degli nazisti, dopodiché ha vissuto e insegnato come docente universitario di morale a Lublin nella Università Cattolica durante la fase comunista dello Stato Polacco, durante la fase che va dalla liberazione dai nazisti fino alla caduta del muro di Berlino e durante questa, e non si limita chiaramente a insegnare morale, ma diviene vescovo, poi partecipa al Concilio Vaticano II, poi diventa Papa e quindi è sicuramente tra i grandi protagonisti dello scorso secolo. La sua figura, di conseguenza, probabilmente non può essere semplicemente ridotta a quella di un filosofo morale, ma a me piace molto sottolineare questa caratteristica che in realtà non è molto nota e non è molto approfondita. Molti conoscono il votivo a Papa, pochi conoscono il votivo a filosofo fenomenologo. La fenomenologia, come movimento, si diffonde in Polonia, salde radici in Polonia, e tra gli amici di Wojtyla c'era un filosofo polacco fenomenologo che si chiamava Roman Ingarden e che era sicuramente tra gli allievi di Wusser della prima ora e che ha fatto molto per diffondere questo genere di filosofia in Polonia. Inoltre Wojtyla sicuramente ebbe modo di conoscere gli scritti di Edith Stein perché hanno veramente moltissimo in comune dal punto di vista delle questioni e delle soluzioni che danno. Carlo Wojtyla scrive durante il dottorato nel 1953 una bella disamina del pensiero di Max Scheller per capire se il pensiero di Max Scheller può essere a fondamento della morale cristiana, della nozione cristiana di persona e tra l'altro appunto nel far questo non si dimostra semplicemente un epigono di Scheller ma lo critica, trova dei problemi in Scheller cerca delle soluzioni come dire delle soluzioni sue quindi scrive delle cose molto interessanti e poi insomma il suo opus magnum è persona e atto e dopo persona e atto però in cui appunto cerca di ribaltare la prospettiva schelleriana e ci dice se la persona è il presupposto dell'atto allora noi possiamo indagare la persona a partire dagli atti quindi prendiamo gli atti vediamo cosa facciamo nel mondo qual è il nostro agire nel mondo e a partire da lì sapremo qualche cosa di più sulla persona questo libro è come vedremo in qualche modo è controverso la filosofia ufficiale della Chiesa Cattolica e il tomismo e più in generale la scolastica la fenomenologia mal si sposa per certi versi con la scolastica anche se Edith Stein sicuramente aveva già anticipato il lavoro di Wojtyla cercando di conciliare fenomenologia non rinunciando mai a conciliare l'indagine fenomenologica il metodo fenomenologico con il tomismo quindi Wojtyla scriverà tutta una serie nel tempo di disagi integrativi e non finisce mai di scrivere in realtà fino a che non diventa papa e dopodiché quando diventa papa ha altre preoccupazioni viene da dire nonostante questo appunto cerca di difendere il suo punto di vista di fenomenologo e di far capire che cosa che cosa in che cosa la fenomenologia può arricchire ecco la proposta cattolica bene vado avanti e appunto vi espongo quelle che sono le critiche ecco che Wojtyla muove a quella che è la nozione scolastica di persona e quindi parte dalla nozione di individuo in Aristotele poi affronta quella di persona in Boezio si chiede quali sono i limiti di queste definizioni e cerca quindi di capire qual è il problema a cui lo sguardo fenomenologico dovrebbe cercare di trovare la soluzione dunque Aristotele definisce l'uomo come animal razionale zoon noeticon logon hekon ecco quindi lo definisce attraverso un rapporto di genere e specie è un animale di genere animale di specie razionale ciò che facciamo siamo tutti animali questo è quello che ci lega anche ad altre ad altre forme di vita ma ci caratterizza questa cosa un po' specifica siamo noetici abbiamo un nus abbiamo una mente e possediamo il logos possediamo questa cosa un po' particolare che può essere tradotta come parola sicuramente ma non è la parola in generale non siamo semplicemente dotati di parole in generale ci sono altre parole in greco che significano parola mutos per esempio mutos da cui derivano i nostri miti logos è la parola razionale logos per intenderci è anche il rapporto logos è anche la frazione questa cosa bisogna tenerla presente quindi dire che l'uomo possiede il logos vuol dire che possiede questa capacità di costruire rapporti e relazioni ecco questo è molto interessante in ogni modo grazie a questo rapporto tra genere e specie noi siamo ricondotti a qualche cosa di più vasto che in ultima analisi è il mondo è il cosmo è un cosmo che è popolato di regni differenti ci sono nel cosmo anche gli animali enti differenti ci sono nel cosmo anche gli animali noi siamo parte degli animali quindi siamo parte anche del cosmo questa definizione ci dice qual è il nostro posto nel cosmo è una definizione cosmologica diciamo ora veniamo a Boezio e Voitiva dice Boezio cambia un po' le cose con la sua nozione di persone razionalis natura individua substanzia è stata già diciamo evocata nel corso di questo seminario da altri altri che sono intervenuti prima di me e quindi abbiamo questa sostanza indivisibile quindi non possiamo ulteriormente dividerla e scomporla dalla natura razionale cosa dice Voitiva se faccio la differenza tra Aristotele e Boezio qui si perde qualcosa cioè si perde questa riduzione al cosmo mentre l'uomo è accomunato a ogni altra cosa dal punto di vista metafisico per il fatto di essere una sostanza tra le altre ecco quindi questa definizione ha molto di metafisico non è però cosmologica cioè non ci colloca nel cosmo c'è comunque una domanda in evasa in queste due definizioni no quella cioè quindi una di individuo l'altra di persona quindi qual è dice Voitiva lo specifico della soggettività essenziale all'uomo come persona no cioè cosa cosa è che ci rende persone cosa è che ci rende individui questa cosa in effetti non la non la sappiamo no siamo semplicemente per Aristotele no un animale tra gli altri no anche se abbiamo qualche piccola qualche piccola cosa che ci distingue ma cos'è che distingue tutti noi cos'è che distingue l'individuo no qual è lo specifico dell'individuo come dire della nozione di persona in senso individuale cos'è che fa di me me di voi voi no e di voi qualcosa di diverso da me e di me qualcosa di diverso da voi anche se siamo tutti animali razionali anche se siamo tutti sostanze indivisibili dalla natura razionale cioè quello è lo specifico della nostra soggettività questo specifico noi se andiamo a cercare la nozione di boezio di persona o quella di Aristotele di individuo non lo troviamo ecco invece è molto importante è molto importante per dei motivi che non sono così semplicemente speculativi o teoretici ma che come vedremo sono anche morali quindi Wojtyla si pone questo problema sicuramente perché è un filosofo morale e poi sono anche politici come noteremo fra poco allora proseguo quindi Wojtyla sottolinea quelli che sono questi limiti della filosofia scolastica cioè non dice la filosofia scolastica è sbagliata va abbandonata dice però arriva da qui a qui e poi non va oltre c'è un oltre c'è una domanda che la scena evasa e io ho bisogno di evadere in ogni caso Wojtyla non vuole rompere è un cattolico e non vuole rompere con la sua tradizione e quindi concede che la filosofia scolastica ha detto delle cose vere concede in particolare che solo la metafisica e l'ontologia può garantire il permanere dell'individualità che lui chiama suppositum cioè cos'è che fa sì questa cosa miracolosa che fa sì che domani io sarò la stessa persona di oggi e che oggi sono la stessa persona di ieri e via dicendo cos'è che fa sì che le cose permangano ostinatamente ad essere se stesse perseverino nel loro nel loro essere e questo è la metafisica e la base metafisica è quello zoccolo metafisico che la filosofia scolastica ha così bene individuato in Aristotele e in e con Boezio però una volta che noi abbiamo questo zoccolo ci dobbiamo costruire sopra non abbiamo non sappiamo tutto non abbiamo chiarito tutto ci manca ancora da chiarire qual è il rapporto tra l'individuo e la comunità quali sono i tre avversari polemici della chiesa in realtà quali sono i tre avversari polemici di Voitiwa ecco mi viene da dire sarebbe più con cui se la prende Voitiwa con cui Voitiwa dice il novecento ha tentato di rispondere alla domanda sul rapporto tra individuo e collettività e ha dato delle risposte diverse c'è una risposta del liberalismo c'è una risposta del nazionalsocialismo c'è una risposta del comunismo gli unici che non hanno risposto finora dice Voitiwa non mi permetto di dire che Voitiwa ha ragione ma dice noi cattolici manchiamo di una risposta non abbiamo dato una risposta invece il liberalismo il nazionalsocialismo il comunismo l'hanno data e quindi in qualche modo è anche un'esigenza non soltanto morale ma anche politica quella di chiarire qual è dal punto di vista cattolico la relazione tra individuo e collettività allora vado avanti perché la chiesa cattolica non può aderire dice Voitiwa all'antropologia liberale perché l'antropologia il modello di uomo l'azione appunto di individuo il suo ruolo nel cosmo nella società che è liberale è basata sull'egoismo e sulla massimizzazione del proprio utile fa meno di Dio promuove il culto del profitto insomma magari la posizione di Voitiwa io sto veramente molto molto banalizzando Voitiwa dedica delle pagine a questo ma se voi pensate al come dire a come funziona il l'economia neoclassica noi abbiamo tanti individui ciascuno massimizza il proprio utile e poi in qualche modo la mano invisibile del mercato interviene rimettendo a posto tutto e ci sono tanti grafici che questi economisti tratteggiano per mostrarci come la domanda di lavoro si interseca con la domanda con l'offerta di lavoro cosa fa l'individuo quando mette il proprio lavoro sul mercato a disposizione dice mi offro come saldatore mi offro come tornitore sta semplicemente perseguendo il proprio utile personale la stessa cosa fa l'azienda quindi sono individui egoisti che semplicemente tra l'altro non fanno parte di nessuna collettività lavorano soltanto per sé però in qualche modo l'incontro della domanda con l'offerta l'equilibrio la mano invisibile e tutto il resto fanno sì che alla fine come dire tutte le cose tornano e vanno al proprio al proprio posto ecco in qualche modo questo è il tipo di antropologia che si mette si sente in dovere di combattere che cosa per dirla con Margaret Thatcher la società non esiste esistono soltanto gli individui la collettività non c'è è una invenzione io non la vedo dov'è vedo soltanto individui quando vado per strada vedo individui non incontro la società non incontro la collettività quindi questa è la ecco è la risposta che dà il liberale fa fuori una metà del problema dicendo non c'è la società in un certo senso poi altre risposte come il nazionalsocialismo sono fanno fuori invece l'individuo e in qualche modo vedono nell'altro un mero strumento i rapporti tra il leader alle masse e dentro alle masse vi discorrendo di cui abbiamo già parlato nelle volte nella lezione scorsa con Edith Stein sono meramente strumentali i rapporti che si danno all'interno del nazismo e il nazismo è completamente soggiogato soggioga completamente l'essere umano alla realizzazione di quello che è un ideale che è quello che è quello di una collettività che però non è una comunità ecco come nel senso che Edith Stein dà a questa parola altro avversario polemico di Voitiva probabilmente quello che lui ritiene più pericoloso ma anche più interessante è molto Voitiva pensa una persona molto fine molto acuta in certi passaggi come vedremo il marxismo per lui è estremamente interessante tra l'altro lui vive nella Polonia comunista quindi non può neanche permettersi di non conoscere il marxismo figuriamoci in ogni caso occorre conoscere il proprio nemico quindi lui lo studia lo approfondisce e dice il marxismo riconduce l'uomo al mondo dal punto di vista cosmologico attraverso un processo di antropogenesi che da che si da attraverso il lavoro e che riduce l'uomo però secondo Voitiva alla mera sommatoria dei rapporti di produzione esistenti qui mi piacerebbe vi rinvio anche andare a riguardare le slide del professor Capello perché anche il professor Capello nel suo incontro per diciamo così in qualche modo criticare e trovare delle soluzioni delle vie d'uscita alle proposte di Marcel Moss ci parla di una via del genere che ha perseguito l'antropologia allora qual è il punto provo a ridirlo con delle parole un po' più più semplici la società è rapporti di forza ed è rapporti di forza che sono cristallizzati all'interno dei rapporti di produzione c'è il capitale e c'è il lavoro e poi ci sono i fattori produttivi dell'azienda che sono il modello di tutta la società dice anche Marx il meccanismo della produzione è il meccanismo che informa di sé dà forma anche a tutti gli altri rapporti sociali per esempio alla distribuzione delle merci a quello che succede banalmente quando vado in un negozio a quello che il rapporto tra me e il mio capo ufficio e via discorrendo quindi l'uomo è il prodotto di tutto questo tutti questi rapporti di forza tensioni conflitti alla fine generano l'uomo cioè l'antropogenesi e generano l'individuo quindi al di fuori di questo non c'è nulla al di fuori di questo l'individuo è semplicemente questo è l'individuo in quanto fa parte della classe dei lavoratori della classe del proletariato oppure individuo in quanto fa parte però della classe della borghesia o dell'aristocrazia e via e via dicendo ecco quindi questo è come dire il esprime nel marxismo il legame tra l'uomo e il cosmo il cosmo in questo senso molto ampio molto un cosmo sociale un cosmo culturale non è semplicemente un cosmo così non è il sistema solare ecco la cosmologia non è il sistema solare va bene quindi anche questa proposta che vede appunto il lavoro al centro la categoria centrale il perno attraverso cui che rende ragione appunto del processo di antropogenesi e di individuazione ecco anche questa è una proposta che lui non trova condivisibile allora e quindi cosa fa l'architetto e scogita questo tentativo di legare la sua proposta nel carattere fenomenologico alla metafisica quindi l'indagine personalistica dicevo Itiwa non è antitetica alla comprensione cosmologica dell'essere umano ma ne costituisce una interpretazione in primo luogo quindi non vogliamo comunque rendere ragione del posto dell'uomo nel suo ambiente nel suo universo natural culturale ecco però ecco la nozione di persona ci permette di interpretare questo legame che abbiamo già visto in Max Scheller c'è un legame essenziale che si dà tra individuo e mondo quindi si tratta di partire dall'esperienza per trovare in questa esperienza un percorso di conquista dell'io ancora una volta abbiamo come dire un individuo che si trova nel mondo ma che in effetti non sa di essere un individuo probabilmente non si rende benissimo conto e quindi si incomincia con una dimensione collettiva e ci si chiede com'è che avviene il percorso che porta a me a diventare un uomo che porta il bambino a diventare adolescente e poi uomo e quindi che ti porta a diventare persona quali sono questo è il campo secondo obiettivo del morale il morale lui è un filosofo morale si interessa la morale gli interessa l'etica il campo del morale è proprio questo come accade questa cosa dell'autodeterminazione com'è che a un certo punto io conquisto faticosamente il possesso su di me il dominio su di me di me le mie pulsioni il mio corpo ma anche appunto tutte le tensioni sociali i rapporti di forza in cui sono sempre costantemente immerso quindi qui dicevo l'etica c'è in gioco un tipo di conoscenza differente da quello cosmologico che mi dice che io sono un tipo di animale oppure se sono una sostanza perché questo campo dell'esperienza in cui avviene questo percorso di conquista di autopossesso di autodominio e anche questo campo è reale e quindi bisogna farci conti con questo ambiente nel quale io divento uomo qui metto un piccolo approfondimento semiotico che ci interessa molto perché anche Gray Mass ci dice qualcosa a proposito della cosmologia e della neurologia Gray Mass tenta una soluzione che secondo me è di grande originalità per comprendere quello che è il nostro rapporto con il mondo dal punto di vista del senso e lui dice ci sono molte molte prospettive di carattere filosofico che hanno fatto questa indagine che cosa possiamo fare noi semiotici possiamo vedere come il nostro rapporto con il mondo si dà nel linguaggio cioè come il linguaggio se tu lo analizzi recca traccia di questa relazione quindi si tratta di andare a cercare nel linguaggio il nostro rapporto con il mondo e nel linguaggio lui distingue tre tipi di semi cioè tre tipi di valori semplici semantici significati diciamo così significati semplici che sono figurativi astratti qua c'è un errorino e timici e mi dice Gray Mass i semi figurativi corrispondono qualità sensibili del mondo le figure di cui possiamo parlare in un racconto in un racconto io mi imbatto in figure mi imbatto in persone esseri umani protagonisti deuteragonisti mi imbatto però anche in paesaggi mi imbatto in fontane mi imbatto in elementi architettonici mi imbatto in figure del mondo qualità sensibili dice Gray Mass cose che io di solito nel mondo posso percepire ecco il racconto quindi treca traccia di questa mia sensibilità e poi abbiamo dei semi astratti che categorizzano il mondo senza farne parte fornendogli un significato potremmo dire che lo ritagliano e gli esempi che fa Gray Mass sono relazione termine opposizione tra relazione termine l'opposizione tra oggetto e processo ecco quindi la differenza tra i semi figurativi e i semi astratti è la differenza che c'è tra la cosmologia e la noologia che ci permette la griglia che noi proiettiamo sul mondo per ritagliarlo per farlo a pezzettini ma abbiamo anche dei semi timici secondo Gray Mass che connotano microsistemi semantici secondo la categoria euforico disforico dando vita a sistemi assiologici molto complesso ma sostanzialmente possiamo dire che esprimono la relazione tra il nostro mondo interno le nostre categorie astratte e il mondo esterno quello sensibile quello di carattere figurativo dando dei valori che sono più o meno buono o cattivo nell'ambito per esempio del discorso morale buono o cattivo nell'ambito del discorso politico amico-nemico per citare Carl Schmitt nell'ambito del discorso come dire nel discorso culinario se c'è avremo una siologia ancora diversa quindi avremo gustoso-disgustoso come per esempio se prendete questa foto che ho messo qui questa è una cosa americana una pizza con l'oreo con gli oreo ecco quindi a seconda di chi siete voi e di come nella cultura in cui vivete la pizza con l'oreo può sembrarvi una cosa gustosissima buonissima lo trovate in un blog di cucina americano oppure una schifezza una roba che non si può come la pizza con pollo e ananas queste cose che noi italiani lasciano decisamente perplessi ecco quindi noi proiettiamo su quelle che sono le opposizioni che reperiamo nel mondo alto-basso destra-sinistra non so la jocantina sono tutti esempi tratti dalla semantica strutturale di gray mass noi proiettiamo questi microsistemi assiologici che ci permettono quindi di dotare il mondo di una polarità più o meno ok possono dirci tante cose di noi possono per esempio dirci che c'è una relazione che è quella della preferenza tra l'individuo e il mondo insomma possono servirci però diciamo così la base scientifica di indagine per gray mass è il linguaggio almeno per gray mass nel 1966 per il gray mass di semantica strutturale ecco che quindi forse ci interessa anche da un punto di vista semiotico capire qual è la relazione che lega la persona e la cosmologia in questo specifico senso molto tecnico molto complesso ma comunque molto interessante bene fatto questo piccolo escurso semiotico ritorniamo a Voitiva e diciamo che anche per Voitiva la vera realizzazione dell'uomo l'autocoscienza l'autodominio l'autoteleologia avviene nella comunità ecco questa cosa è molto interessante è molto importante abbiamo già più o meno accennato qui sotto quindi c'è questa sorta di esperienza percorso di conquista dell'io esperienza assolutamente reale e questo percorso e questa esperienza avvengono sempre all'interno di una comunità quindi questo nostro posizionamento all'interno di una comunità ancora una volta è originario ma nota Voitiva la comunità di cui noi facciamo parte è accidentale non c'è come dire ci capita ci capita e non è non è qualcosa di essenziale può addirittura cambiare si può cambiare una comunità in cui tu in cui tu sei collocato addirittura durante il giorno durante il giorno io sono un lavoratore poi torno a casa sono un padre quindi sto nella famiglia quindi mi dice la comunità di appartenenza però è importantissima perché è proprio il fondamento di quello che si può dire sulle persone il polacco il cattolico il cittadino l'operaio sono gli esempi di Voitiva ma quindi anche l'italiano il come dire il musulmano il cittadino ci siamo però possiamo contrapporgli che so il familiare l'operaio quindi possiamo il capitalista o il lavoratore non so il piccolo borghese ecco queste comunità di appartenenza sono da un lato accidentali e dall'altro dall'altro e quindi cambiano costantemente però dall'altro è proprio su queste che noi possiamo in qualche modo sulla base di queste che possiamo autodefinirci e quindi chi è Carlo? Carlo fa l'operaio chi è Andrea? Andrea è un cattolico rieccomi qui per un paio di considerazioni conclusive sia sul pensiero di Voitiva sia su quel che è stata la nostra analisi semiotica forse analisi è una parola esagerata eccessiva considerazioni semiotiche sulla nozione di persona così come è stata dibattuta all'interno della fenomenologia dunque per quanto riguarda Voitiva mi interessa discutere di questo esito politico che la sua etica la sua discussione il suo personalismo chiamiamolo così ha avuto perché Voitiva come dicevamo ha il problema di differenziare la propria proposta da quella del liberismo del comunismo e del nazionale socialismo tre cose che lui tiene ben distinte è noto che lui quando in tarda età era già da un pezzo definì il nazismo come male assoluto e il comunismo come male necessario penso che sia tutta da dibattere chiaramente questa definizione in ogni caso Voitiva è un profondo conoscitore del marxismo e dal marxismo recupera la nozione di alienazione lui dice questo partecipare all'umanità dell'altro implica esplicitamente una nozione di umanità il tutto diversa da quella che la scolastica avrebbe considerato un universale l'abbiamo visto la nozione di umanità che lui eredita da Thomas da Quino da Don Scotto e il portinnesto su cui lui inserisce le sue considerazioni fenomenologiche quello che lui interessa è un io personale in ogni caso unico e irripetibile non quello che caratterizza l'essere umano l'umanità da un punto di vista ontologico ma cos'è che ci rende persone uniche e che dà un valore diverso a ciascuno di voi la differenza che c'è tra tutti e ciascuno l'alienazione costituisce al contrario una sorta di de-umanizzazione dell'umano questa è l'accusa che rivolge ai grandi sistemi di totalità le grandi ideologie del novecento ma anche sia appunto al liberismo e al liberalismo che noi pensiamo in qualche modo come fondamento del nostro sistema del nostro ordinamento democratico sono tutte forme in cui non riflettendo e non considerando la persona non riflettendo sulla persona non compartecipando dell'umanità dell'altro si ottiene una de-umanizzazione dell'umano ecco quindi anche in questo caso non cambia nulla dal punto di vista metafisico gli esseri umani dal punto di vista metafisico rimangono se stessi anche nella loro forma alienata e la società alienata può sussistere anche senza la comunità senza quella che Edith Stein chiama comunità quindi i rapporti sociali che lui pensa di come dire di descrivere all'interno della società liberale della società nazionalsocialista della società asservita al capitale della società asservita a una guida in cui abbiamo delle masse passive o semplicemente un insieme di rapporti strumentali e anche nella società comunista lui in qualche modo rivolta la nozione di alienazione la rivolge anche quella società comunista che teoricamente partendo da basi marxiste dovrebbe combattere l'alienazione stessa quindi anche nella società comunista noi abbiamo si perde appunto questa unicità della della persona questo valore che ciascuno individua in quanto in quanto persona quindi questa è la così il modo indicato da voiettiva perché le sue considerazioni di natura morale ed etica abbiano poi anche un esito politico concludendo quindi invece per trarre delle conclusioni un po' più generali su quello che è il percorso visto finora abbiamo visto che la nozione di persona proposta della fenomenologia non ha un carattere soltanto cosmologico o essenzialmente cosmologico come quella tradizionale della filosofia scolastica io parlerei piuttosto di proprio accettività parlerei piuttosto di quell'insieme di valori semantici che come dire che fanno riferimento a una mediazione tra noi e il mondo a quello che è il legame essenziale che c'è come abbiamo detto fin dall'inizio tra l'io e il mondo tra l'individuo e il mondo allora quello è il luogo dove collochiamo la persona nel senso della fenomenologia e infatti la persona è in primo luogo un attore individuale antropomorfo che svolge la funzione di soggetto qualificato in un programma di azione abbiamo detto una persona è un uomo è un uomo una donna perché è dotata di un corpo e un uomo è una donna perché può essere il soggetto qualificato del programma di azione è contraddistinto da un poter fare e un poter fare che poi diventa un fare quindi non è passivo non è un oggetto ecco questa nozione di persona ha comunque un carattere relazionale cioè non si è persone su un'isola è quella che Marx chiamerebbe una robinsonata si è persone soltanto se si riconosce all'altro lo statuto di persona e se l'altro a sua volta riconosce questo statuto a me quindi se si è riconosciuti come persone quindi si tratta di una nozione immediatamente sociale o socio-semiotica o comunque di interesse etno-semiotico ecco un oggetto su cui queste discipline possono esercitare la propria presa allora dunque la persona partecipe di un attore collettivo che svolge la funzione di soggetto anche esso in programmi di azione cioè la comunità quindi anche qui in opposizione però ad altri attori collettivi che sono la società che sono la massa in cui si danno che sono innanzitutto passivi e poi al cui interno l'altro o l'individuo si ritrovano in uno stato di passività e si entra a far parte di questi per contagio la nozione di persona permette all'individuo una presa di possesso morale l'autodominio in chiama voiettiva una presa di possesso morale di se stesso che gli dischiude la partecipazione e contrasta con l'alienazione o con la deumanizzazione dell'umano che è una caratteristica che pare essere una caratteristica quasi inevitabile di quelle che sono le società novecentesche quindi sia quella liberale liberista sia quella comunista sia quella nazionale socialista tutto ciò chiaramente dal punto di vista di un cattolico come come voiettiva ecco tutto ciò ho detto tutto questo e quindi potrei dire in conclusione che la nozione di persona ci permette di dire che la fenomenologia si configura come una come una filosofia profondamente umanista o che cerca di salvare quello insalvabile rispetto all'umanesimo e quindi è una filosofia che attraverso questa nozione di persona la nozione di collettività pensa che sia ancora tuttora possibile anche da un punto di vista politico che dire sia ancora possibile reinstallare sulla sella della storia un soggetto che durante il novecento si è trovato disarcionato questo soggetto disarcionato è l'individuo l'individuo ideale del liberalismo del liberismo l'individuo pensiamo all'imprenditore innovatore di Schumpeter l'individuo che prende le redini del proprio destino oppure un soggetto di natura collettiva il partito o il partito sia nel senso del partito comunista sia nel senso del partito nazionalsocialista o un soggetto come Dio che Dio si è trovato disarcionato a un certo punto dopo Auschwitz dopo un insieme di eventi che in qualche modo hanno scosso profondamente quella che era la nostra fede in Dio la fede in un Dio personale perlomeno tutti questi soggetti della storia lo spirito assoluto di Hegel e via discorrendo durante il novecento si sono trovati spesso e volentieri coi piedi per aria disarcionati dalla storia mentre in precedenza si nutriva l'illusione che in qualche modo la storia fosse un cavallo a cui un qualche forma di soggettività potesse dare una direzione tenendone le briglie ben strette ecco come in quanto tale la filosofia fenomenologica ecco si presenta come un l'ultima diciamo tentativo di difendere una prospettiva umanistica in cui l'uomo la persona la collettività possono tornare a prendere in mano le briglie della storia e questo chiaramente va anche a confliggere contro filosofie invece profondamente anti-umanistiche che nel corso del novecento si sono susseguite filosofie che hanno fatto dell'umanesimo il proprio bersaglio come lo strutturalismo o il post-strutturalismo il pensiero della differenza alcuni di questi li abbiamo già incrociati nel corso di questo di questo seminario la teoria del cyborg la teoria del abbiamo già visto come la teoria insomma appunto così lo strutturalismo macchinico deleziano e via discorrente ecco tutto ciò tende a mettere in crisi la nozione di persona noi abbiamo già visto alcuni interventi che ci dicono che si chiedono che ne è della nozione di persona nell'epoca del cyborg nell'epoca dell'intelligenza artificiale quindi nell'epoca del dominio della tecnica eccetera 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 quindi però questa chiaramente ve la consegno come una riflessione che qui potete fare quello che volete siete tra l'altro anche liberi di non concordare con me questi concludo su questa pagina di riferimenti sono un po' di letture che mi sono servite a costruire questa presentazione non necessariamente sono le migliori le più specialistiche o le più aggiornate possono essere però per chi dovesse cominciare un percorso il luogo dove andare a cercare un insieme di categorie ma anche un insieme di percorsi il punto di partenza per altre esplorazioni vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e vi saluto per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione